Bella a tutti i Fortniteers, benvenuti e bentrovati su Leon2, eccoci in questo video andiamo a vedere un po' tutte le ricompense di questo Fortnite Remix che, attenzione, abbiamo il pass battaglia, costa sempre 950 VBAC ma dovrebbe durare fino al primo dicembre ora vedremo, il pass battaglia Remix prosegue fino al primo dicembre alle ore 8, ora è italiana, perfetto andiamo a vedere tutte le ricompense, ci sono 7 livelli e in questa prima fase andiamo a prendere 800 VBAC abbiamo la skin direttrice del caos al primo livello, poi andiamo a vedere il secondo abbiamo sempre la direttrice del caos con un altro stile, direttrice spettrale poi abbiamo il bellissimo palla 1 a livello 4 nel finale abbiamo Sky in incognito livello 5, pagina 5 abbiamo Sky di mezzanotte nel pagina 6, il finale è Mia Oda, il misto tra Miascolo e Mida o Miascolo Mida e poi scusate abbiamo l'ultimo, nell'ultima pagina con sempre Miascolo Mida ombre ben qui dovrebbe essere 800 VBAC se non ho contato male poi ci sono le ricompense bonus dove abbiamo altri 200 VBAC e poi nelle prossime non si vedono le prossime ricompense sono ancora, diciamo, da scoprire arriveranno tra 10 giorni poi abbiamo qui la nitroglicerina dinamo quindi la skin di cartonglicerina dinamo che arriverà, anche questi tra una quindicina di giorni verranno sbloccati e quindi ci andiamo a prendere il pass 950 VBAC e andremo a fare tutti gli incarichi per completare ovviamente devono esserci tante missioni in un mese per fare tutti questi punti perché se ogni livello sono 80.000 XP per fare 7 pagine ci vorrà un bel po' di livelli aggiornato anche il negozio oggetti poi da questa stagione dovrebbero aver unificato i punti esperienza i punti esperienza ci fanno fare tutti i pass indipendentemente da dove giochiamo quindi Fortnite lego fortnite festival o rocket racing e ci danno sempre i punti esperienza che ci fanno completare i pass sia la versione base che la versione premium questo è il pass di Snoop Dogg che vediamo l'hanno infatti messo qui qui ci sono gli incarichi che ora andiamo a vedere e direi che per questo primo sguardo è un po' tutto andiamo a vedere il negozio oggetti possiamo andare a prendere i livelli del pass l'ego pass che è quello di prima ancora e il pass musica 1400 VBAC poi abbiamo il bundle DOGG di Snoop Dogg il bundle Snoop Dogg Cadillac la Cadillac di Snoop Dogg l'emote punto luce carina 200 VBAC antenata ghiacciato Victoria Scent asso sangue d'oro queste figure qua le tracce gem e poi le cose che c'erano c'è un nuovo pacchetto se non sbaglio il pacchetto questo qua riflessi oscuri 18 e 49 ci dà 3 skin picconi e dorsi decorativi due dorsi decorativi e un piccone dorsi decorativo cubo imprevedibile scudo scuro e poi le skin di Jonesy oscuro cavaliere rosso scuro e jolly oscuro carine 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 sì davvero e giudizio finale non mi ricordo se l'avevamo già visto anche questo qua mi sembra di no con Katrina bella questa skin anche willow molto bella poi la skin di luce oscura abbiamo anche gli altri stili testa di bambola il dorso decorativo lutto libero come direbbe un cinese dorso decorativo dolly e poi il dorso decorativo ali indago con e senza bagliore non danno v-back questi pacchetti però sono molto carini quindi io direi di chiudere qua questo video con le novità di questo aggiornamento le prime novità diciamo che sono riguardo il pass battaglia del negozio e ora andremo a scoprire anche se riusciremo ad andare avanti nei vari pass completando gli incarichi quindi nei prossimi video per questo è tutto ragazzi mi raccomando mettete sempre un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti